Le sanzioni della Cina a parlamentari dell'Unione Europea e a organi dell'Unione Europea è inaccettabile, avrà sicuramente delle conseguenze. Per noi la difesa dei diritti umani è non solo sancita dai nostri trattati, ma è un principio che vogliamo difendere con forza. Abbiamo la necessità di ristabilire la verità e soprattutto garantire alle persone le libertà fondamentali.